buongiorno buongiorno a tutti ragazzi da vincenzo penna investire.biz e anche stamattina siamo insieme con la rubrica caffè mercati l'appuntamento giornaliero di tutte le mattine dove andiamo a fare il punto della situazione sui mercati finanziari quindi mi sposto molto rapidamente sul calendario economico ricordandovi che ieri le borse sono state chiuse per festività nel regno unito e negli stati uniti per la giornata di oggi non sono attese particolari news importanti mentre fate molta attenzione a quella che sarà la giornata di venerdì infatti ci sono gli attesissimi non farm payroll e anche il tasso di disoccupazione per quanto riguarda gli stati uniti tasso di disoccupazione atteso in leggero rialzo mentre buste paga non agricole in attesa in diminuzione rispetto a 250 mila quindi molto molto facciamo molta attenzione a quello che sarà appunto il dato delle 14 e 30 di venerdì e detto questo voglio brevemente ricordarvi che oggi l'appuntamento consueto con pietro riglia pit trading webinar del martedì che di solito fanno lui e riccardo oggi sarò io quindi pietro insieme a me alle ore 15 come tutti i martedì evento ovviamente gratuito vi invito ad iscrivervi anche perché oggi a caffè mercati vi porto un'analisi proprio grazie a pietro quindi grazie alla strategia di pietro grazie a pit trading di pietro quindi mi sposto subito sul grafico per farvi vedere che oggi parliamo di amd parliamo di amd anche in virtù del fatto o meglio in virtù delle trimestrali di invidia che perché praticamente paradossalmente in seguito alle ottime trimestrali di invidia amd ha avuto comunque il suo momento di gloria facendo segnare un più 17 per cento perché è successo questo perché non tanto le trimestrali attuali sono andate bene quanto le aspettative sulle prossime trimestrali quindi ci si aspettava prima di questi di questo annuncio di invidia delle trimestrali delle prossime trimestrali con un utile netto all'incirca di 7 7 miliardi e mezzo video però ha sbaraiato tutti annunciando un utile netto previsto di 11 miliardi quindi un aumento di circa quasi il 40 al 40 50 per cento sui prossimi utili quindi questo ha fatto schizzare sia nvidia che amd per chi ha anche amd perché ovviamente come nvidia è il produttore principale al mondo di chip visto che comunque il trend dell'intelligenza artificiale è nettamente in scoppio quindi sta comunque spopolando ovunque il trend dell'intelligenza artificiale queste ultime queste due aziende ovviamente si occupano della produzione dei chip inerenti proprio a questo comparto e quindi sulle aspettative di invidia gli investitori stanno scommettendo tra rigolette anche con un rialzo per un rialzo di amd vi faccio notare come vi ho segnato questa ultima zona che tra l'altro è l'ultimo supporto dal quale poi è partito il più 56 per cento invidia e vi segnalo come all'interno di questa zona noi insieme appunto a pietro per quanto riguarda il servizio di cui parlavo prima siamo entrati long proprio in questa zona qui quindi ci siamo portati a casa o meglio siamo ancora in posizione un bel 57 per cento per chi volesse approfondire il servizio ovviamente ne parleremo sicuramente oggi in maniera molto più dettagliata però vi invito a far visione anche della pagina relativa ai servizi è un servizio ovviamente in abbonamento perché l'avete visto da voi quanto sia enorme la qualità che offriamo questo è tutto lo storico dal 2014 per quanto riguarda il portafoglio italia e questo invece dal 2020 per quanto riguarda il portafoglio wall street sempre e comunque in netto in netto guadagno tutti gli anni questi ovviamente sono tutti i piani vi consiglio di farvi un piano semestrale o al massimo annuale anche perché il mensile visto che comunque si tratta un po diciamo di azionario c'è bisogno di qualche mese per poter vedere un po i frutti di quella che è la strategia straggia comunque ottima vi ripeto che siamo entrati long praticamente tra area 84 e 80 dollari quindi veramente veramente un colpaccio detto questo stamattina che cosa volevo dirvi volevo proporvi un interessante trade in ottica ovviamente long ovviamente non lo possiamo fare dai livelli attuali però mi attenderei almeno un ritracciamento nell'area del gap lasciato nella giornata appunto del 24 maggio quindi tra area 115 dollari e area 108 dollari in circa qualora il prezzo dovesse rientrare in quest'area qui possiamo valutare operazioni long ovviamente sempre attendendo tutte le conferme lato price action quindi voglio vedere magari un engulfing almeno su h4 time frame h4 un netto rifiuto quindi spike ben marcate almeno su time frame h4 h1 e quindi questo trade varrà andrà sicuramente aggiornato nelle prossime nei prossimi appuntamenti quindi magari parleremo molto più approfonditamente di questa situazione di tutti i livelli chiave oggi al webinar delle ore 15 con pietro e detto questo ragazzi come sempre vi auguro una buona giornata e un buon trading a tutti ciao